Tu hai già detto più volte che secondo te Furlani è un po' il tuo erede, ma hai paura che ti possa portare via quel record? Ma io spero che mi porti via il mio record, anzi non vedo l'ora perché comunque l'ho ottenuto per 17 anni e a me sono contento. Io dico sempre ai ragazzi, alle persone che mi chiedono, io quando ero piccolo guardavo i grandi e li volevo battere, volevo essere migliore di loro. Ed è quello che la gioventù e i ragazzi della generazione più giovane devono fare, devono guardare a me e dire ok, io devo diventare meglio di Henry, più forte di Henry. È la stessa cosa che sta facendo Matteo, io glielo auguro e spero veramente per lui. Adesso l'atletica, devo dire la verità, va di moda, secondo me, non tanto una fase dorata per il semplice motivo che comunque finalmente è ritornata ai livelli, e anche dove deve essere lo sport come atletica leggera a livello italiano. Noi hanno fatto un grandissimo lavoro a livello della federazione, il CONI, hanno investito tantissimo nei giovani, i tecnici, e i frutti si vedono proprio perché comunque sono usciti tantissimi ragazzi nuovi che stanno facendo delle prestazioni incredibili.